Il titolo di oggi, dal Fatto Quotidiano, pagina 16, il titolo è Il nemico di classe è in cattedra. È un articolo di Federico Pontigia dedicato al film Class Enemy del regista slovenno Rock Bicek, un esordiente a 29 anni. Il film l'anno scorso è stato presentato in anteprima alla settimana della critica di Venezia, ha vinto il premio dei critici Fede Ora e ora potrebbe vincere il Lux Prize 2014 del Parlamento dell'Unione Europea. Scrive Federico Pontigia sullo schermo un rapporto di causa-effetto apparentemente semplicissimo, un nuovo professore di tedesco, una classe che esplode. Eppure la tavolozza umana di Bicek non ha bianco e nero, ma tutte le sfumature del caso, i chiaroscuri psicologici, le ambiguità etiche, le relazioni politiche tra bene e male. Chi è il colpevole? Soprattutto c'è un colpevole? E più avanti. La classe dove sostituisce una cara e un tot svanita collega in gravidanza è neutra, comune, ragazzi e ragazze diversi tra loro, eppure come tutti. I ribelli, il secchione, la panchettona, gli stereotipi, meglio i tratti distintivi, sono ordinari, forse. A dare nell'occhio è solo Sabina, che suona Mozart al pianoforte. Robert, il professore, la interroga nel senso di interrogazione, nel senso di interrogatorio. Che cosa vuole fare Sabina della propria vita? Che cosa ha deciso per sé? Non è una risposta, Robert pretende di più, la sferza, la castiga e scende una lacrima sul viso di Sabina. Mozart a cinque anni sapeva già chi voleva diventare, lei intima e il professore. Ma non chiama in causa solo lei, quanto i genitori. La reprimenta non risparmia nessuno, ma rude e ferrea, che sia, vuole salvare Sabina e il suo futuro. Così non è. La ragazza si suicida. I compagni di classe non elaborano il lutto, addittando il gran colpevole, Robert, ovvio, e ribellandosi al fatidico sistema. La sinossi, ovvero la guerra con la cattedra a far da barricata, non è inedita, ma il titolo non è solo un evocativo, elegante e furbo gioco di parole. Un nemico di classe qui c'è davvero. Già, ma chi è? Se Sabina è il capo espiatorio, la preside direbbe Lenin l'utile idiota, sicuri che Robert sia la nemesi. No, troppo cattivo, troppo nazista per essere davvero tale, ma la forza del film qui risiede. Robert non ha inquadratura in soggettiva. Robert è oggetto degli studenti, correlativo oggettivo della loro ribellione. Eppure, nonostante non abbia voce drammaturgica, a parte la straordinaria presa scenica, stiamo con lui. Meglio, li concediamo il beneficio del dubbio. E conclude Federico Pontigia. Bicek non ha solo la dialettica, ma la didattica della lotta di classe. E al posto di strillare occupai qualcosa, lui ha deciso di sgombrarci il cervello. Non è da tutti, eh?